Quanti anni? Allora, siamo stati estratti per la prima volta nel 2001, per la seconda volta nel 2011 purtroppo la sfortuna per avaria abbiamo dovuto rimandare, quest'anno ce l'abbiamo fatta! Che emozione! Tanta, tanta, tanta e la voglio dedicare a mia mamma che purtroppo non c'è più. Bravo, bravo! Grandi, mio fratello, mio fratello, socio, socio di nostro, lo stesso peschino, grazie a tutti! Che preparativi ci saranno adesso fino alla processione? Ma sicuramente tanti, partiremo da subito per prepararci, con gioia, con tanta gioia ci prepareremo per il nostro padrono. Che significa portare San Basso in processione per voi? Non è semplice da spiegare perché veramente viene dal cuore, mi emoziono così tanto perché veramente la sentivo. Una cosa chiamo dire, non è che siamo stati baciati dalla fortuna, ma è il nostro padrono, San Basso, che ha scelto il peschereccio dove andrai in processione. Bravo, grazie!